Grazie a tutti. Grazie a tutti. La pittura non è più un mestiere per vivere e la maggior parte di coloro che si occupano di pittura oggi sono come forma mentale alla stregua di venditori di elettrodomestici porta a porta. Si loro lustrano le scarpe. Una volta il ruolo del pittore era di fare una cosa e poi il mercante veniva a cercarlo. Adesso i pittori attraverso il tempo hanno abituato i mercanti ad avere le scarpe lucide. Un'opera d'arte, un lavoro, lascia tutto quello che tu sei. E' come una lastra così sensibile che puoi vederne attraverso anche il servilismo. Insomma, capire se sei un venditore di elettrodomestici oppure no. Mattia Morelli Oggi con noi per parlare oltre i limiti dell'arte e dell'arte contemporanea Maurizio Braccialarghe, assessore alla cultura del comune di Torino e Filippo D'Averio No, fai proprio bene perché il bicchiere e la sigaretta sembra di essere in un salotto di casa e questo è esattamente il senso di questa serata. Innanzitutto Un assessore è dismesso e uno è in carica. Beh, bisogna decidere chi è dismesso e chi è in carica. Io andando con una vecchia locomotiva come quella che c'è qua a Torino il Politecnico, quella nera ormai su due rotaio sulla lucine. No, vabbè, ma potresti anzi darmi degli utili consigli. Allora, questo è l'ultimo incontro di questa serie che abbiamo voluto principiare quest'anno di incontri oltre il limite. Quando abbiamo, insieme agli amici dell'associazione, abbiamo programmato questa serie di incontri abbiamo pensato che una serata, e devo dire che la vostra partecipazione ci fa particolarmente piacere era indispensabile legarla al tema oltre il limite dell'arte. E quando abbiamo pensato a chi potevamo chiamare, ovviamente il tuo nome è stato immediatamente gettonato da tutti i colleghi che con me hanno organizzato questo ciclo di incontri. Perché? Perché certo, andare oltre il limite è in qualche maniera la sfida al confronto di tutta questa serie di incontri che abbiamo fatto, ma ci siamo anche posti un tema molto semplice. In fondo, quando si pensa all'arte, anche nel suo percorso storico, è difficile disgiungerlo dalla capacità di ognuno dei protagonisti di questo enorme percorso che abbiamo alle spalle, che abbiamo nell'attualità e che io mi auguro avremo anche nel futuro, proprio rappresentato della capacità artistica, che in qualche maniera deve per ogni epoca interpretare anche il superamento del limite. E la prima domanda che ti vorrei fare è se questa suggestione è ancora vera, cioè l'arte è ancora in grado di superare i limiti, più che oggi mai. dentro il limite vuol dire che l'arte la capisce subito anche la stampa quotidiana, cioè quando il Corriere, la stampa Repubblica, il Messaggero insieme esaltano un artista, è dentro il limite, perché non è mai successo nella stampa dell'ultimo secolo e mezzo che i limiti nuovi fossero percepiti anche nella borghesia imperante, sarebbe assurdo. Oggi noi viviamo una vastissima area artistica che è nel limite, è quella che vedi nelle mostre, è quella che viene esaltata nelle fiere, è quella che fa i prezzi, è quella che Sodomi e Cristi sancisce con dei colpi di martello che sembrano far furore, è quella che compra un russo che ha appena rubato quattro fabbriche di carri aromati o un americano che ha visto crescere il prezzo del petrolio, è una roba totalmente priva di interesse. L'ultimo fenomeno di arte, al di là del limite, ve lo voglio raccontare, è stata l'ultima biennale fatta da un uomo intelligente, veramente intelligente, che era Harald Zeman, Harald Zeman era una sorta di integralista ungherese, ticinese e uno dei più grandi showmaker d'Europa, c'è un uomo di intelligenza fuori dall'ordinario e per un errore della biennale gli fu affidata la biennale del 2001, poi non ha mai più fatto questi errori, hanno fatto solo scelte nel limite. quando lui fece la sua biennale, io la girai a giugno, perché si va sempre alle inaugurazioni, e mi ha detto ma ci sono delle cose un po' inquietanti, poi ho detto ma sarà le manie di Harald, siamo salutati, abbiamo bevuto una cosa insieme e sono partito. Quando poi, avvenne l'11 settembre, e io ero a Napoli, che stavo girando la prima puntata di Paspartum, mi disse, e l'hanno tirato giù le torri gemelle, ho detto ma non rompete le scatole, non è vero, poi quando mi sono accorto che era vero, ho detto qui è successo un fatto clamoroso nella comunicazione mondiale, il mondo è da cui cambierà. Ho ripensato la biennale di Harald Zeman, c'era un padiglione inglese con una musica di tipo paramistico e la gente che entrava usciva dall'aeroporto, c'era la grande installazione delle pietre cadute di Odef Poiss, c'era una serie di elementi che annunciavano tutti che sarebbe successa una cosa terribile, sono corso indietro la biennale e abbiamo fatto un secondo video in cui andavamo a interpretare gli elementi che erano suscettibili di annunciare il futuro e mi ricordo che Harald è stata l'ultima sull'intervista perché poi venete morto, quella l'ultima in cui dicevo ma scusa Harald, noi dovrebbero chiamarci politici perché non capisco mai quello che succede, quando l'arte è vera serve anche ai politici a capire dove va a finire e i politici intelligenti l'ha sempre fatto, pensa per esempio a questo sciagurato di Napoleone Bonaparte che arriva a Milano nel 1796, lui ha 26 anni e tenta questa avventura folle solo perché ha scoperto quello che è la cosa più bella da scoprire, ha scoperto la Giuseppe de Bourne che gli ha insegnato delle cose che lui non sapeva, anche perché c'era 10 anni più di lui, era sempre a lunga e fra le cose che gli insegni ha detto anche il ragazzo mio deve fare carriera, non deve fare il prestito per fare questa tremenda guerra d'Italia che lui vince in un modo strepitoso rapidissimo e arriva a Milano e questo qua che è un corso, una famiglia sostanzialmente di mitomani e di teatratti, arriva a Milano e scopre subito Andrea Piani e si fa fare a 26 anni il ritratto di Andrea Piani, in quel ritratto Andrea Piani annuncia tutto ciò che sarà la storia dell'impero, allora perché alcuni riescono a uscire dai limiti, si capisce Napolino Bonaparte sarà stato anche una sorta di terrore, però con tutto li dobbiamo riconoscere fuorché la capacità di un'intelligenza leggermente superiore anche da alcuni politici esimi che abbiamo avuto in Italia recentemente, altri come lui, non è che tutti i piccoli siano bravi, no? Allora, è stata sostanzialmente un'arena per un negozio di borsette di Milano e un negozio di guanti che per farsi un po' di comunicazione assumono dei critici che sono più o meno acculturati quanto i proprietari dei negozi di borsette, i negozi di guanti che sono bravissimi a fare borsette e guanti, ma l'arte è una cosa diversa e da allora abbiamo questa sequenza di pienali, purtroppo l'ultima è veramente stata quella del 2001, che sono state di una mestizia assoluta, tutta nei limiti. Ma tu dici l'arte è una cosa diversa, ma che cos'è l'arte? L'arte è una cosa complicata, intanto l'arte è di per sé un fenomeno linguistico ambiguo, l'arte è l'opposto della pubblicità per intenderci, cioè la pubblicità deve, io ho un mio grande amico pubblicitario qua a Torino, Torino ha avuto i più grandi pubblicitari del mondo linguistico che era bravo, l'Armando Testa, lui prendeva un messaggio complicatissimo e lo riduceva ad un gesto poetico minimo, quando la cosa complicata diventava minima comunicava molto lontano, questo era il grande Armando Testa degli anni 70 e 80, poi di recente abbiamo fatto un passo ulteriore nella comunicazione per far andare il messaggio ancora più lontano, gli abbiamo addirittura tolto il significato, ce l'abbiamo fatto cuocere come si fa una salsa bruna, fino al fondo e quel fondo diventa in realtà poi la parodia del messaggio, infatti i messaggi che vanno lontano oggi, pensate per esempio a un libro della stupidità infinita del codice da vincini, del Brown, un libro analfabeto per un certo verso. vedo che c'è della gente d'accordo, questo mi fa piacere, quindi non sono l'unico matto a pensarla così, cioè del Brown riduce il mondo a una cosa semplice, i cattolici sono tutti perversi, essendo lui di origine di area protestante, il Papa è il gestore di una serie di cose losche e fra queste cose losche i più fedeli si mettono il ciliccio e si fanno male, no? È un mondo molto come l'America ama sempre, l'America è un mondo semplice, cioè dove i francesi mangiano camomero, gli italiani mangiano spaghetti e i cinesi hanno le pacchette, se non è così il mondo non si può capire e va combattuto. Allora, di fronte questa lettura semplificata è la chiave del mondo nel quale viviamo, infatti la nostra epoca, passerà alla storia, perché questa epoca sta per finire per fortuna nella grande crisi finanziaria, la nostra epoca verrà chiamata gli anni del trash, perché dalla comunicazione semplificata si è passati alla comunicazione parodiaca e la comunicazione parodiaca genera poi all'inizio un potentissimo consenso e poi dopo però un senso assolutamente di vuoto che è quasi da vertigini. L'arte è l'opposto, l'arte complica il messaggio, rende il messaggio necessariamente ambiguo e più il messaggio è ambiguo, più il messaggio è in grado di comunicare persone diverse, messaggi leggermente diversi e più in grado di durare nel tempo grazie a questa sua complessità. Ti do un esempio, quando uno di quelli che considera l'artista tipico del trash che è Catelan, il Veneto, che fa un mestiere che è proprio quello della comunicazione, cioè lui fa delle installazioni da vetrina, quelle che quando passi davanti a Natale, dice, non posso non guardare Babbo Natale con le renne se per caso ci passi a Pasqua e vedi Babbo Natale con le renne ti viene un senso di tristezza assoluta. E con lui fa quel mestiere lì, prendi i bambini e la prendi all'alberello a Milano e il tassista frena, come io freno, davanti a Babbo Natale. A Natale, però il suo messaggio è di una banalità, di una semplicità assoluta. Il messaggio artistico è l'opposto. Il messaggio artistico è quello di Joseph Poiss che fa la sua performance a Londra con il sciacallo e si avvolge nel feltro e uno deve capire che cos'è il feltro, deve capire perché c'è il sciacallo, se non capisce gli sembra un idiota tedesco a Pasqua. Se capisce e sa che ha di fronte a sé un grande poeta. E questa è l'arte, è una roba più complicata. Ma questo però ci rimette in un quesito che credo appassioni molto di noi. Cioè per confrontarsi con l'arte bisogna avere degli strumenti. Assolutamente sì. E come si fa a costruire questi strumenti? Allora lì è una roba strana. Ci sono dei tipi che ci viano automatici. Sono beati loro. Io adesso è morto, quindi ne posso parlare. Io ho fatto il mercante d'arte, fate tutto in vita mia. Non ho fatto il pusher ma il mercante d'arte, sì. Ho avuto un cliente torinese che era un uomo di un'intelligenza fuori dall'ordinario. Posso anche dire chi è. Si chiamava Sergio Rossi. Era quello del Comao. Sergio Rossi era scarsamente alfabetizzato. Non parlava l'italiano, parlava esclusivamente piemontese e si vantava di dirigere 2000 ingegneri acculturati e laureati. Aveva ragione. Io mi ricordo che venne da me in bottega. Aveva una mostra di disegni che già non è una cosa facile, ma una mostra di disegni eccellenti che andavano da Kandinsky a Scipione e in mezzo c'era uno straordinario disegno futurista di Severini. E' arrivato lì e ha detto questo lo voglio. Ho detto ma scusi perché? Perché aveva detto come fa lei, fa le robe, lei è un meccanico. Questo lo voglio, mi piace. Aveva intuito in quel disegno una cosa diversa da quella che intuivo io. Ma perché l'arte è complessa? Allora, l'arte è per elite, per definizione. Però l'elite che si interessa all'arte è un'elite un po' particolare. È un'elite alla quale tutti hanno il diritto di aderire. Mentre la finanza è di elite, ma se uno non ha la pila è meglio che non ci può provare. Tante robe sono di elite, no? L'alta medicina è di elite, ma se uno l'ha fatto i 5 anni di università per la specializzazione non ci può entrare. L'arte è l'unico mondo elitario, e poi ti spiego cosa intendo per elite, è l'unico mondo elitario al quale tutti possono accedere. Se hanno la pulso, alcuni hanno la fortuna, come Sergio Rossi che capiscono subito, altri che è la sua intelligenza, la stessa che gli applicava nel fare la robotizzazione. Allora era più bravo al mondo. Da qua da Torino lui lo robotizzava a Detroit, quindi era uno che se la sapeva lunga. Allora o uno ha quel talento lì, oppure uno ha l'animo poetico, no? Quelli che hanno l'animo, io proprio no, ma c'è chi, in mezzo c'è della gente che sicuramente ha l'animo poetico, che sa delle cose prima di noi. E poi infine ci sono quelli che si applicano, quelli un po' come me che sono un po' testoni, che un po' studiano. Allora, tutti questi possono entrare nei limiti. Che cosa caratterizza quelli che sono poeti e quelli che sono automatici? Quella roba divertentissima. Tanti anni fa con un mio amico che stimo molto, perché è quello che si occupò di tutta la storia di Fluxus in Italia, un grande amico di John Cage, era quello che aveva fatto i lavori insieme con Wolfo Stelle, si chiama Cino Di Maggio, quello che pubblicava Alphabeta, mi ricordi? Erano seduti al ristorante e ci dicevamo la cosa, dico, senti Cino, mi fa lui a me, ma noi non siamo mica stupidi. Dico, no Cino, a me non sembra che siamo proprio scemi. Dico, sì, però non siamo artisti. Dico, questo è sicuro, cioè non siamo stupidi ma non siamo artisti. E mi fa, ma sei, sono degli artisti più stupidi di noi, questo sì, posso garantirlo anch'io, però loro sono artisti e perché loro sono artisti e noi no? Allora dopo una discussione assolutamente così folle, metafisica, siamo arrivati a una conclusione. Noi che siamo intelligenti, poi adesso dopo il bosone di X, riusciamo a capire praticamente quello che è successo dopo il Big Bang. Gli artisti sanno quello che è successo prima, i poeti sanno quello che è successo prima e quel sentire quello che è successo prima, da noi non ci verrà mai di capirlo, ma loro sono capaci di rivelarcelo. Questo è il fatto artistico. Bravissimo. Difficile sentire definizioni così precise e puntuali. Senti, mi viene in mente una storia per rappresentare insomma l'arte contemporanea, così cerchiamo di avvicinarci. Aspetta, ti posso fermare subito? No, no, prima cosa. Purtroppo qui la questione è come semantica, dobbiamo cominciare a definire le parole. Quando ero bambino, io cioè molto prima di tempo, c'erano ancora tre categorie, c'era l'arte antica, la medievale, la moderna e poi si aggiungeva ancora una sottocategoria che era la contemporanea e l'antica, era quella roba dei romani, la medievale si capisce, la moderna era dal rinascimento in avanti, si discuteva se iniziava o meno con l'inizio del Quattrocento, però con il Ghiberti c'era un accordo generale e poi il moderno era quello che iniziava col neoclassicismo da Canova in avanti, il contemporaneo era tutto quello che iniziava dopo, cioè dall'impressionismo in avanti, quella che a Milano era chiamata galleria d'arte contemporanea, aveva come quadro iniziale, il quarto stato di Belizia da Volpedo. E ovvio queste categorie ormai sono obsolete perché le hanno inventate nel 1890 e sono passati 120 anni da allora. Oggi noi abbiamo delle categorie diverse, cioè noi abbiamo sempre l'idea di un'arte classica, abbiamo un'idea molto poco definita dell'arte moderna, però la facciamo andare più o meno dal cuore dell'Ottocento agli anni 30 e 40 fino al futurismo, talvolta anche oltre, no? A Ghermica fa ancora parte di un'idea di arte moderna. E poi abbiamo un'idea di arte contemporanea che è quella che nasce nel dopoguerra o nel cuore della guerra fino agli anni 90 e che oggi non c'è più. Quella della quale dobbiamo parlare oggi è l'attualità. Il mondo di Fontana, di Castellani, anche di alcuni che vivono ancora, di Gianni Connellici, il mondo di Piero Maggioni, è un mondo contemporaneo. Ma quello dei 35 anni, 40 anni di oggi è un'altra cosa in attualità. Allora sono due parametri diversi, molto importanti oggi da definire perché mentre è accertato il valore dell'arte contemporanea è tutto da discutere circa quello che è successo dagli anni 90 e davanti. Che sia colpa di Regani della Taccia? Può essere, non so. Ma io ti volevo raccontare questo aneddoto che, pensando all'arte moderna, contemporanea, non so quanto sia sottoscrivibile da te per le cose che hai detto finora. Si racconta che purtroppo una persona venne presa nell'Unione Sovietica e fu mandata in un gulag. Prima di lasciare la sua famiglia, strappato dai suoi affetti, disse alla moglie, io ti scriverò utilizzando il colore rosso quando dico la verità e il colore blu quando dico le bugie. Allora la prima lettera che ovviamente passava dalla censura diceva, cara moglie, qui si sta benissimo, ci trattano benissimo, mangiamo benissimo, siamo sotto ogni confort. Peccato che abbiamo esaurito il colore blu. Allora io vorrei chiederti, ma l'arte l'abbiamo esaurita e il colore blu è anche quello che tu stavi definendo prima, cioè la capacità di preveggenza in qualche maniera, la capacità di indirizzo, di capire il senso e questa è ancora una realtà dei nostri tempi o no? Guarda, io conosco tantissimi artisti che nell'oscurità del loro mondo inventano delle cose che sono incredibilmente sciamaniche, stanno in fondo ai loro posti, però nessuno li prende sul serio, cioè io penso che l'Italia, poi tra i paesi occidenti l'Italia è sicuramente il paese più cattivo, perché l'unico che dichiara pubblicamente di odiare gli artisti e di odiare i giovani, mentre in fondo i tedeschi non osano dirlo e non lo fanno neanche tanto e i francesi non ci capiscono niente, quindi non affrontano il problema, ma in Italia la questione è molto chiara, cioè i giovani fanno o fanno i tronisti o fanno le veline o fuori dai piedi, che è una scelta un po' crudele, è vero no? È una scelta un po' crudele, gli artisti entrano nel stesso gioco. Allora, lui bisogna fare un ragionamento un po' più complicato, nei paesi d'Occidente, dopo il dibattito famoso del 93 sul CAT2, cioè sui scambi commerciali ti ricorderai che ci fu un'opposizione francese fatta dal successore di Dio Amel, il Ministro della Cultura, che disse facciamo l'eccezione culturale, cioè si fa tutto quello che volete, ci scambiamo tutto, ma l'eccezione culturale è che noi certe cose non possono passare. Il paese che non fece l'eccezione culturale era l'Italia negli anni 90, negli ultimi anni del craxismo e l'Italia diventa in quel momento un luogo magico per il mondo della produzione americana, cioè l'Italia è il paese dove la campagna di promozione di un nuovo formaggino della Kraft costa un quinto di quello che costa in Germania e in Francia, perché l'Italia è la pancia molle, quello che stanno scoprendo quei poveretti che migrano dall'Africa verso l'Italia, ciò che in Europa si entra dall'Italia, non hanno scoperto molto prima le multinazionali americane. L'Italia è il paese della penetrazione, questa stessa cosa l'hanno fatta gli speculatori e lì purtroppo nacque una cosa bizzarra. Nel 1900 fra l'81 e l'82 e per colpa di un gruppo di miei carissimi amici che erano Norman Rosenthal alla Royal Academy, Cristo Siocchi Mides, che ho visto anche ieri, a Berlino con Zeitgeist e poi dei brittoni un po' che era Nicolás Serota e che adesso si occupa dei grandi musei a Londra e Tom Krenz, che aveva ancora i pantaloni corti, che adesso dirige il Kupenheim. Per loro scoprire erano un'idea geniale, fecero questa prima mostra che cambiò il gusto, che era quella sulle varie transavanguardie, dove c'erano noi e vinti tedeschi, c'era la sperimentazione americana, c'erano anche i nostri quattro italiani. E' un grande successo, la mostra fatta prima a Berlino come Zeitgeist, poi a Londra come New Spirit in Painting e poi passò al Kupenheim, cambiò il mondo. Loro convincero Charles Sachin a diventare collezionisti di attualità. Lui aveva prima, comprava blue chips dell'arte moderna, cioè Warhol, quelle cose lì, come fanno tutti i ricchi, hanno bisogno di un ricco che non ha un Warhol, è un ricco un po' non presentabile nel mondo internazionale, sono ricco di serie B. Allora, lui era molto ricco quindi ce l'aveva quelle robe lì, però lui era detto tu devi comprare anche Middorf, devi comprare Baselitz, devi comprare KIA e così via, e lui ha comprato. Poi, essendo però con un profondo animo pubblicitario, fece una potentissima promozione su questi artisti e nel giro del tempo brevissimo divennero carissimi. E lui disse da buon britannico, there's money in that question, no? E decise, allora perché devo stare a sentire il direttore dei musei, faccio io? E ha inventato la sua macchina, che è una macchina in qualche modo satanica, perché lui ha deciso che erano gli artisti. Ha trovato nel mondo americano una nuova generazione di mercanti molto ruspanti, artisti molto aggressivi, che si sono legati a lui, ed è nata una sorta di cupola internazionale dell'arte contemporanea. Se ben vi ricordate tutti quelli che hanno più di 45 anni se lo possono ricordare, è proprio dalle anni 90 in poi che non c'è più stato diritto in Italia di vera arte italiana, ad escluso di due o tre artisti che avessero il timbro loro. È nata la grande cupola. Né per la grande cupola l'Italia offriva gli stessi vantaggi, offriva per i formaggini, era il ventre molle, cioè l'Italia è il posto dove il palcoscenico via via niente. Prova tu a far andare alla Biennale di Parigi e di che non conta quasi che niente, è una roba locale, ma va bene la Biennale di Parigi direi adesso io ti impongo il mio critico, ti dico chi devi esporre il francese, ti manda il diavolo. Questa è andata una Venezia, io ero tutti disattenti, io mi piace tanto che il mio franco di abelità di valare il bar e lì è prima i belchi, erano contenti come dei peotti e hanno accettato l'arrivo delle truppe d'occupazione. Non è che i rivoli sia diversi, non è che i rivoli poveri quando vedi arrivare la GIP alla fine della seconda guerra mondiale. Siamo ancora così? Senti, siccome adesso io vorrei affrontare un altro aspetto con te, che è il rapporto appunto tra l'arte e i giovani, e quindi anche con la società e in particolare con i giovani, noi stasera abbiamo invitato a venire con noi, quindi io li invito a salire tre artisti che credo, come dire, possano in qualche maniera interrogare anche te a partire dalle loro esperienze, perché in qualche maniera io credo che tu ci possa anche, come dire, dare qualche consiglio su come affrontare, come dire, le difficoltà che anche questo mondo rappresenta anche per loro. Sono Marzia Miglior, Alessandro Quaranta e Alessandro Sciaratta. Ti prego di accomodarsi. Io vorrei partire subito da una tua prima considerazione, poi mettiamo subito, come dire, la prova da parte della loro esperienza, su cosa deve fare un giovane artista oggi nel mondo, tra virgolette, così complicato dell'arte che hai cercato di descrivere. La cosa più semplice è il mondo, un giovane che sia, intanto a me l'artista giovane, solo perché è giovane, mi convince solo parzialmente, perché l'ultima operazione di provocazione assoluta che ho fatto, era quattro anni fa, era la mostra a un artista di Napoli che nel posto del madre che spendeva dodici milioni di euro all'anno, nessuno l'ha mai preso in considerazione, un genio, gli ho fatto fare un libro da schirà, aveva 88 anni e gli ho fatto fare la mostra l'otto di agosto, in modo che fossero quattro otto in fila, si posa a perfezione secondo tutta la cultura numerica e caparistica arabo-ebraica. Allora, si può anche essere vecchi. La cosa che hanno i giovani, che è interessante rispetto all'ottantotenne e che hanno un'aspettativa prospettica che lui oggettivamente non ha più nello stesso modo, perché loro tirano avanti una sessantina d'anni questi qua, cioè se li va bene, se no li mettono sotto con l'autobus. Quindi loro tirano avanti, mentre gli gli 80 ne ha 94 adesso. E lì come evitare gli autobus. Sì esatto, è difficile per lui tirare altri sessant'anni, loro hanno la storia in mano, questa è una cosa interessante. E in realtà gli sono un po' criticato il Mario Monti per quello che ha detto l'altro giorno, però io sono veramente d'accordo con lui, chi non ha la prospettiva di dialogo con le generazioni in crescita è demente perché non immagina il futuro della società, questa è la parte di quello che mi interessa. Poi i giovani tendersi più bestie perché sa poco, li hanno fatti studiare male, talvolta hanno intuito però, devono assolutamente fare la rivoluzione. Come? Non lo so, perché sono loro che devo fare, mica io. E voi cosa ne pensate? Iniziamo, così vi presentate anche. Buonasera a tutti, io cosa penso? Penso che innanzitutto la rivoluzione non si faccia con il Kalashnikov, quindi si faccia con la rivoluzione, che ne parla lei e io. No, ma la scritta, cioè rispetto a quello che ho letto la sua intervista stamattina, credo che la rivoluzione si possa fare con un pensiero molto più sottile, una rivoluzione che possa comprendere le persone, si fa con l'intelligenza, quindi respirando l'aria che c'è attorno, cercando di capire dove siamo in questo momento storico e politico, cercando di parlare alle persone, quindi giustamente come ha detto lei prima, di cercare di rendere più facile se vogliamo il nostro pensiero, cercando di arrivare agli altri, alle masse. Infatti stasera sono felice di essere qui e di vedere un gran numero di persone, di cittadini che condividono con me, questa città che è meravigliosa e sono le stesse persone che vorrei vedere alle mostre, che vorrei vedere frequentare i musei, che vorrei vedere guardare le opere d'arte, ma non guardarle correndo, guardarle appunto tentando di confrontarsi con quello che gli artisti cercano di dire e di fare, perché gli artisti io credo che se hanno una cosa straordinaria, i miei colleghi e io qualche volta magari ci riesco, è di far vedere le cose da un punto di vista diverso, quindi di ribaltare anche la realtà che abbiamo intorno. Certe volte questo ci riesce, certe altre meno, ma forse vale la pena di fermarsi ad osservare questo modo di guardare. Io ho fatto un'intervista stamattina ovviamente provocatoria parlando di Kalashnikov, l'ho detto perché non potevo parlare anche di Chiliottina che non è un brutto apparecchio neanche quello, però non sono poi avversato e fa un po' impressione, ma è l'indicazione sanguilaria che è importante, ci sono delle Chiliottine morali che sono oggi assolutamente necessarie, morali, c'è della gente che non deve più apparire, adesso non voglio parlare di politica, ma il lano che se ne è andato, l'altra mattina è detto torno, il lano in un paese normale era idiotinato, questo è il petto di organizzazione, non è la stessa cosa. Poi al posto suo poteva venire cogliato, non importa, un parente, uno che rappresentava il pacchetto azionario dei suoi proprietari, visto che forse lui non è neanche proprietario, non lo so però, il ritorno, cioè noi viviamo una società in Italia che assomiglia al film dell'orrore, dove quando il film Gremlin finalmente è morto, porca miseria, mentre uno si percince a prendere caffè, torna fuori dal caminetto. È vero o no? Come ne pensi? Allora, la Chiliottina ha questo vantaggio tecnico, che Luigi XVI non è più tornato, è arrivato il fratello minore dieci anni, quindici anni dopo, ma lui no. Allora, questo intendo per la rivoluzione, poi non è detto che necessariamente si debba fare con dei meccanismi cruenti, quindi prima cosa. Seconda cosa però, a me non piacciono le mostre. A me non piacciono le mostre perché quando io ho conosciuto, ho conosciuto delle gente, ho parlato quasi come il cittorice, tanto sono vecchio, io ho conosciuto molto da vicino la moglie di Cino Severini, la vedova, no? Che era la figlia di Paul Faure, il grande poeta dell'inizio del secolo a Parigi. Lei era nata nel 1900 proprio e era alla Closghi de Lila nel 1913, aveva 13 anni, a cena con Pablo Picasso e arrivò dall'Italia un poco, così tecnicamente, da una parola sullo sfigato, un giovanotto che si chiamava Cino Severini, che aveva 26 anni, e andò alla Closghi de Lila dove c'era Picasso e la Jean Forte, si namorò della Jean Forte e si sposarono, ed è arrivato un movimento dell'arte. Questo meccanismo può avvenire solo alla Closghi de Lila, non può mai succedere in una cunistale o in uno spazio di esposizione pubblica. Io sono radicalmente contrario ai musei di arte attuale, quelli che sono uguali a Düsseldorf e a Vancouver e a Saint-Etienne, che si distinguono solo annusando la caffetteria, perché a Düsseldorf, a Saint-Etienne di Croclusio e a Vancouver di Hamburger. Una società che non è in grado di creare un punto magmatico di collante dove il fatto artistico fa sì che un artista visivo incontra uno che scrive una lettera, un altro che fa il filosofo, uno che fa il musicista, uno che pensa a sovvertire il mondo e l'altro che sta preparando una spedizione missionaria in Africa, se conosce quel mondo non c'è l'arte. Però questo in qualche maniera però poi deve arrivare al contatto con noi. E' così quando, io mi ricordo, 1394 anni fa, quando il pittore della mia grotta fece le prime decorazioni in stile Altamira, perché l'aveva vista su internet, la prima cosa che fece, chiamolo sciamano lui, il capo villaggio, e si parlarono fra di loro. Se non succede questo, non è arte. L'arte è una cosa seria. Io vorrei, scusate, me lo so portato, è un momento di leggerlo, io ho avuto una bizzarra avventura, abbiamo visto tante persone, dopo aver conosciuto per tanti anni se basta batta, un grande surrealista, che l'aveva sempre preso un po' per troppo batta. Però la vita è bizzarra. Negli ultimi tre anni della sua vita siamo diventati molto amici. Lui è morto a 92 anni, in ospedale a Tarquinia, mentre tentava di toccare le chiappe all'infermiera. Pese con un colpo di mano e aveva era già molto rotto. Il colpo finale rimase secco, era un bel tipo, era veramente un bel tipo. Lui risiedeva, era un artista di successo, aveva anche parecchio e disponibilità economiche, in un bellissimo convento fuori Tarquinia. E nella chiesa di questo convento, che era stata sconsacrata, la donna una volta c'era l'altare, aveva un enorme butta, e si sedeva di fronte a questo butta, c'erano due sedie, e lui chiamava in conversazione. Quando ha sentito che la figlia era vicina, mi fece la dichiarazione su ultima volontà, che ho pubblicato in un libro in giro. E in un libro in giro non si trova più in giro, infatti mi avevo portato le fotocoppie, ma è molto commovente, perché poi lui mi disse anche, mi diede una sorta di compito a casa nella vita, lui mi disse, aspetta devo ritrovarlo perché la fotocopia è fatta male, mi disse anche, prendi questo coniglio per le orecchie, ecco, tu devi studiare, io sparisco adesso, pensa un po' di brimini, è molto importante che qualche cosa di questa intuizione parli a quelli che lavorano, tu prendi questo coniglio per le orecchie e occupatene, e fa conoscere che c'è più di quello che chiamiamo arte. Adesso arte vuol dire essere indipendente, è una delle qualità dell'individualismo, riducendola. Ti leggo l'inizio della confessione, è fantastico, lui queste cose poi diceva, parlava benissimo l'italiano e il francese, però sempre con la punta del panico perché era del Cilè. Prima di tutto l'arte contemporanea non è arte perché l'arte è una cosa più grave, l'arte contemporanea è un divertimento di forma. L'artista, vero, nasce da una sofferenza molto profonda che è una sofferenza di specie, non individualista, è la specie che soffre di non potersi identificare e quando l'individuo si identifica compie l'arte. L'arte contemporanea è un'arte di elite e non parla della grande frustrazione che sta nella specie, non ti leggo l'estero, ma avanti così. Allora, questo dato è una roba che accomuna Matta e Michelangelo, accomuna Picasso che non parlava e faceva solo skate con Caravaggio. Se questa cosa non c'è, è totalmente inutile. Abbiamo già un mondo pieno di immagini, dobbiamo togliercene, vediamo. Noi vediamo in un anno la quantità di immagini che è pari a quella che ha vissuto l'umanità nell'epoca di Giulio Cesare fino alla prima guerra mondiale che volevano mettere delle altre ancora, basta. C'è una sorta di ecosistema delle immagini che va ristabilito. Siamo pieni di immagini, siamo pieni di suoni, siamo pieni di rumori. Viviamo un calendoscopio che è voluto dal potere per tenderci rimbappiti. Suntiamo cosa ne pensano loro. Ma io vorrei rifarmi, torno a fare un passo indietro alla domanda che ha posto, riguardo a che cosa un artista giovane deve fare. Io dall'inizio ho sempre fatto, ho osservato con grande cura e attenzione le parole che esempio il regista tedesco Werner Herzl diceva a proposito dei giovani registi. Io faccio una parafrasi e sostituisco la parola regista all'artista. Secondo che l'artista, il giovane artista per diventare tale, deve fare tutto ciò che non appartiene al mondo dell'arte e quindi abbassarsi nella sua giovane età, a fare il lavapiatti se necessario, a lavare i pavimenti di un ristorante se necessario, cioè a partire e soprattutto a fare esperienza col mondo, col mondo in modo tale che sia proprio il mondo che attraverso l'uomo filtro possa parlare, possa parlare a tutti. insomma, questo secondo me già in un certo senso nasconde già in luce un seme per la rivoluzione, ecco questo secondo me è un segnale molto importante. Bravo! Poi si pone quello che dice lui, esattamente quello che è vero, è quello che c'era nella Biennale di Harald Seymour, cioè l'artista è una spugna della permeazione cosciente che ha con sé il grandissimo vantaggio che è meno loioso del filosofo, cioè il filosofo se non lo segui non capisci, avete seriamente provato a leggere Plotino? Io non ho mica capito una parola difficilissima, però ho dovuto fare per doveri d'ufficio, no? Già, Emanuele Kant e Hegel in tedesco, in italiano tradotto non si capisce niente, in tedesco si capisce un po' meglio. Ma l'artista ha questa cosa straordinaria che ci evita di dover capire perché ci fa sentire, ci riesce a far pulsare il mondo e ce lo fa intuire. Allora, quello che le dice è giustissimo, però io ripongo il problema su Biennale Rivoli. L'ultima Biennale, quella tristissima fatta da questo pover uomo che è Bonami, è una persona che ha delle lettere molto fragili, cioè non ho mai studiato in vita sua, l'ultima Biennale, e l'ho fatto per il negozio di guanti, lui lavora per il negozio di guanti, l'ultima Biennale. Ho fatto una gag con mia moglie, assistito dalla Dada Quaranta, che è una bravissima scenografa. Abbiamo finto di essere sordi e la puzzicona nel film delle vacanze intelligenti. Allora mi ha detto che bisognava, ma adesso te li ha quello che metti, come aprire la camicia, abbiamo preso un cappello e l'abbiamo stirato in piazza, bla bla bla, mia moglie mi ha messo a non cuscino, mia moglie già non è magra, però con il cuscino in più era proprio, e abbiamo fatto quella coppia C. Abbiamo rifatto il giro che aveva fatto ironicamente sordi 30 anni prima, e la cosa clamorosa è che la Biennale era rimasta uguale. Cioè in 30 anni non era cambiato niente, lo stesso angolo minimalista, lo stesso micro gesto provocatorio, la stessa banalizzazione della complessità visiva, era identico. E ci siamo accorti di una cosa terribile, che l'arte ufficiale della contemporaneità, non so cosa fate voi, ma quello che lui mi dice mi fa pensare che non sia così, l'arte ufficiale della contemporaneità non si è accorto in 30 anni che crollate l'anno sovietica, che è arrivato come ini, è ripartito come ini, che è arrivata la città, che è arrivato internet, non ha visto, non ha capito niente. Allora può l'arte non capire niente? Ci sono dei momenti nei quali è successo così, per dire la verità, quindi la storia ci dà dei lunghi, è successo nella formalizzazione tardo-bizzantina fra il XII e il XV secolo. Ma poi sono arrivati i turchi e si sono mangiati il bisanzio. Allora, se questo è il significato vero del nostro vuoto, voglio solo sapere i turchi per non farmi mangiare, chi sono i turchi di oggi per non farmi mangiare da loro. Oppure mi piacerebbe che ci fosse di nuovo una coscienza artistica che non è, attenzione, un fenomeno unico, perché ciò che è caratteristico delle sovrastrutture nella società è che sono tutte compenetrate. L'intelligenza che c'è nell'arte ha un parallelo nell'intelligenza della sovrastruttura politica, ha un parallelo nell'intelligenza della sovrastruttura filosofica. Ha un parallelo anche nella parte della sovrastruttura scientifica. Forse è per questo che siamo nella fase ascoltiscendente. Eh, siamo un po' nella fase ascoltiscendente, è tutto un po' così in vacca, no? Allora, siccome però non si sa da dove far ripartire la macchina, dobbiamo trovare un punto dal quale riparte la presa di coscienza. A me piace molto la faccenda del bosone Nix, che mi ha scritto anche una roba sopra perché io sono uno spettacione e fra i vari modi che ho di sciupare il dannaro c'è anche quello che tutte le mattine mi arrivano cinque giornali non italiani, uno in tedesco, uno in francese, uno in inglese, uno spagnolo, più liministe. Però questa cosa strana ogni tanto dà anche delle sensazioni utili. Il giorno del bosone Nix era fantastico perché Erwin Tribune aveva mezza pagina, il Frankfurt Allgemeine che di solito non ha quasi immagini in copertina, se non un'immagine tipo artistica, aveva una grande immagine sul bosone, Le Monde aveva una prima pagina esaltante, il paese era tutto eccitato, non voglio offendere i miei amici di Repubblica, a me in Repubblica c'era un quadrettino sopra con scritto su festa grande al cielo. Allora mi sono detto siamo in un paese particolare perché l'acceleratore è stato voluto da un Nobel italiano, è stato costruito dall'Ansalto a Genova, in parte, in gran parte, e ci sono 400 italiani che lavorano al CERN, però a noi non ce ne frega niente. È strano questo fatto. È esattamente lo stesso comportamento che la società italiana ha nei vostri confronti, non ne frega niente. Direbbe sì festa grandi arrivoli, perché quella sera c'è andato mille ragazzi vestiti di nero, altrimenti li vochiamo guidati da una piccola truppa di curatori, quelli che hanno i capelli corti e la laurea breve, con un seguito di sacerdotesse. E se l'artista è importante, si era venduti un po' di biglietti low cost, perché l'arte contemporanea legata in realtà è tutta colpa di Ryanair. Da quando sono calati i prezzi dei trasporti, allora c'è questo dungolo che gira il mondo, va a Berlino, poi lo ritrovate a Fris, a Londra, poi va all'Armory a New York, poi salta la cena perché New York è cara, poi li ritroviamo a Parigi, poi li ritroviamo a Venezia, è un dungolo che gira. E questo dungolo ha dentro i suoi piccoli sacerdoti. Allora come si fa a far tornare l'interesse alla società? solo in un modo, non è colpa della società, è colpa dell'arte. E' solo se l'arte è in grado di diventare di nuovo un faro guida. E se è un faro guida, lo deve diventare come meccanismo di dialogo con gli altri che generano la guida. E qui torniamo al discorso dal quale siamo partiti, che cos'è una elite oggi? Sir Winston Churchill, negli anni nei quali l'Adolfo stava conquistando la Germania democraticamente, diceva la democrazia è il peggiore di tutti i governi esclusi gli altri. perché la democrazia funziona se una parte intelligente, nel senso medioevale della parola, cioè che riesce a leggere fra le righe, riesce a determinare un mutamento dell'opinione di una maggioranza povina. questo meccanismo ha funzionato anche in Italia, quando ero un ragazzo io era facile, c'era la sezione del PC, c'era la roba del prevosto, lì cominciava l'oratorio, c'era la bocciofina dei socialisti, due rotari e un circolo dei nobili. Con questo l'opinione era fatta. Adesso tutta sta roba si è sciolta ed è sostituita da Rai 1 e da Canale 5. e ne è nata la democrazia diretta, è una catastrofe. Ora il ruolo dell'arte è rompere la democrazia diretta e rifare centri di formazione della coscienza anche sul fenomeno non necessariamente della polis, anche sul fenomeno della sensibilità pura. E uno deve dire, se non faccio vedere uno, che soverte l'ordine o il disordine, non vado bene o mica che non lì, non lì la questione sarebbe stupida ovviamente, e finiremo col fare l'arte sovietica, no, assolutamente, ma l'arte è quel fatto che genera una pulsione di coscienza. L'arte è uno strumento di perversione. Cioè è esattamente quello che è il virus che mi arriva sempre con la e-mail. Che dopo aver visto quell'opera lì, la mia testa è virusata. Cioè io non guardo più questa bottiglia come l'ho guardata fino a quattro d'ora fa, perché lui mi ha fatto una bottiglia così interpretativa, così mutante, che mi ha mutato la mia percezione. Questo è un fatto artistico. È l'opposto dell'arte della vetrinistica, che mi parla solo attraverso elementi che già conosco, nei quali mi identifico immediatamente. Io vado oltre. l'ho fatto recentemente con un marocchino che non parlava a nessuno. Abbiamo un dialogo lunghissimo. Potremmo farlo? Guarda quello che ha fatto. Allora, per citare, a che cosa servono quelli come me? Che sembrerebbero inutili. Servono perché sanno delle cose che ti torna conti da te. Prego il gesto che ci hai fatto adesso. È fantastico. Perché negli anni Sessanta arrivò per la prima volta a Parigi Eftuschenko, il poeta russo, e fece delle letture pubbliche. E tutte le contesse parigine ne uscirono commosse. Allora, lì stava, girava ancora Salvatore Dalì, che era sì un po' clown, ma non era stupido. E convocò tutti la settimana dopo per una conferenza che lui chiamava la recita delle sue poesie embrionali. E fece proprio così. Però, questo fatto delle lingue non lingue genera alla sua volta una comunicazione. Io ho passato 40 anni fa una notte intera in fondo alla capadoccia a parlare con dei turchi. Loro in turco, io in alsaziano. E ci siamo detti delle cose, non mi ricordo quali, ma si può fare. Sì, appunto, con questo, cioè, si tratta anche del linguaggio, cioè del linguaggio che noi, che noi usiamo. A volte, questi linguaggi sono talmente veloci, mutevoli, che poi per sassonanze ricordano di nuovo fatti e caduti e non caduti interpretazioni. Non so, trovo che ti volevo porre una domanda, cioè in Italia qual è mi racconti una rivoluzione in Italia solo quella di Olivetti? Ma se mi capare se mi capare quella di Olivetti quella in un qualche modo totalmente di mente contorta dei futuristi, quella aggressiva del dopoguerra milanese con Piero Manzoni hanno cambiato le cose quando nel 1956 John Cage fece il suo primo viaggio in Italia, in Europa, negli Stati Uniti. non andò mica a Vienna che era il luogo dove era morto Anton Webel andò a Milano perché era in corso la rivoluzione all'interno del laboratorio di fonologia musicale. Queste cose anche a Cologna no ma Milano era quello più ganso di tutti adesso non c'è più cioè ci sono dei momenti di rivoluzione veri quando la società cambia quando la società cambia quando nascono le energie nuove cioè quando Nata fa il Moplet fa la rivoluzione noi abbiamo fatto la rivoluzione nella chimica quando abbiamo fatto le più belle automobili Don Paolo proprio qua nella tomba dell'automobile a Torino quando le facevano belle cioè state pensate dei momenti cioè io se guardo indietro mi dico certo ci sono stati i momenti poi anzi guardate pensate la cosa più seria di tutte adesso parliamo seriamente quando Goethe è tornato la seconda volta in Italia nel 92 lui aveva fatto il primo viaggio una decina di anni prima che era già un ragazzo maturo aveva quasi 40 anni e in Italia scoprì che l'amore non era solo quella cosa platonica e lo scoprì con la Faustina che stava vicino a Roma quando tornò scrisse una lettera teorica Faustina e quindi diceva porca miseria tutto come prima le strade sono rotte il turista appena arriva lo fregano i padroni dello Stato pensano pensano solo con avidità riempirsi le loro tasche e il popolo è felice di camminare all'ombra dei loro palazzi dopo che sembra uguale oggi allora l'Italia è questa roba qua in tempi normali è proprio questa roba qua perché è diversa ogni tanto è diversa quando noi abbiamo una bella guerra civile dopo le guerre civile si forma una classe elitaria di dirigenza che per 20-25 anni riesce a dominare i bufini questo è avvenuto dopo l'unità d'Italia il ciclo storico dal 60-61 all'85 fu un ciclo di grandissima energia anche grandi pasticci ma di grandi l'Italia è del dopo la seconda guerra mondiale e la seconda guerra mondiale veramente adesso di parlare di resistenza si è avrà cagata no scusate non è vero fu una roba per molti veramente seria in pochi testimoni ancora su Pense di quando si parla di questi temi vi fanno un quadro che fa capire che era roba seria non si scherzava ci si lasciava la pelle era una roba dura quella gente che ne è venuta fuori ha retto le sorti del paese per 25 anni dal 45 facile fino agli anni 60 a 70 fino agli anni 70 allora le rivoluzioni ci sono certo noi non abbiamo la fortuna di quella roba catartica tipo gli inglesi che dicono al re di accomodarsi e li mozzano la testa però anche una roba che non è nelle nostre abitudini perché noi siamo senatoriali non siamo barbarici quali sono barbarici? noi in senato non abbiamo accordo alla fine però noi le facciamo le rivoluzioni all'interno e quindi a voi aspetta di farlo non tiratevi indietro non avete scusa però Filippo posso posso dirti una cosa siccome stasera ti voglio le rivoluzioni in termini di pensione e devo dire grazie a tutti